Cosa poterci fare con un orribile vecchio tappetino per il mouse? Un sottotazza oppure dargli un nuovo splendore? Magari gli do un'ultima chance cercando di renderlo più usabile, tappezzandolo con un bel pezzo di stoffa. Questa tecnica, ovviamente, può essere usata anche per creare un tappetino ex novo. Basta semplicemente trovare un bel pezzo di stoffa di proprio gradimento, un vecchio tappetino oppure una base in comma, in sughero o qualsiasi cosa simile, della colla tipo mastice trassavente, un pennello ed un paio di forbici. Pulito, incollato e sagomato il tutto, magari ci metto anche dei LED RGB. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Ciao.